Musica 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 Non è che persi un bicchiere d'acqua per l'acqua figlia? Che figlia? E per il mal di testa? Ma questa è birra. Qua fa lo stesso adesso. No, veramente non è che hai un bicchiere d'acqua. Se vuoi l'acqua esce in corridoio, se vedi salta a 5 centesimi e hai la trappa. Oppure puoi prendere la birra che è granice e non dovrebbero uscire. Fidati. Tutto bene? Io mi fissi. Sapete dove è andata Margherita? Sì, è stato da tanto crescita. Io la viste entrare nell'aula del fumo. Dico chi, scusa? Marta. Come fai a saperlo? E prima quando sono uscita ho visto che erano lì insieme. E perché non le facciamo? Sì, perché avevano un po' di piacere lì e poi in giro. Quasi. 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 Allora. 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 Lui blu. Allora. Quasi. Quasi. Cos'è? Sono notizia. Grazie a tutti. 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 Scommetto che questo evento rimarrà in cibo nella scuola d'arte per sempre. Chissà, magari ne faranno pure gli infimi, con lei che si credeva Giovanna d'arte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.